I patiti del cinema di Bari ed intorni sono in trepidazione da giorni, ormai manca davvero poco all'inizio della Kermes che per una settimana porterà i protagonisti del grande schermo in città. E mentre gli organizzatori danno l'ultima passata di aspirapolvere al red carpet, già si vedono in giro le auto che scorrazzeranno attori, autori e registi da un lato all'altro di Bari. Stamattina per esempio ne abbiamo beccate diverse in piazza Chiurlia, a due passi dalle postazioni 118 che lì hanno sede, parcheggiate insieme a una pattuglia della polizia municipale nei posti riservati ai mezzi di soccorso. Dato che gli spazi non bastavano, ce n'erano una in doppia fila e una davanti allo sbocco di una stradina laterale. La manovra per uscire fatta da una smart è tutta un programma. Ma questo è il B-Fest, è la magia del cinema e tutto è concesso. Solo i soccorritori del 118 devono pagare multe su multe quando devono prendere servizio e non sanno dove parcheggiare l'auto privata.